La Fintesa scende in campo a Napoli consapevole che ci troviamo in una città che ha dei drammi immensi, a cominciare da quello della disoccupazione e quello della povertà. Quindi il nostro obiettivo è innanzitutto quello di entrare in sintonia con le problematiche e con il sentimento e con le esigenze di questo territorio e di occuparci innanzitutto del mondo dei disoccupati, poi ovviamente del mondo dei lavoratori e particolarmente ci rivolgiamo al mondo dei lavoratori più deboli, quelli privi di tutele e sono tantissimi. E mi riferisco in particolare a dei settori come per esempio quello della vigilanza privata, il settore del portierato, il settore delle pulizie dove ci sono lavoratori ai quali vengono sistematicamente tagliati gli stipendi perché tagliato il monte ore di lavoro e che sono completamente vittime e preda di aziende che non fanno altro che sfruttarli depredandoli dei diritti fondamentali. Quindi noi ci rivolgiamo ai più deboli, a quelli privi di tutela, ci rivolgiamo al mondo dei pensionati che rappresentano una grande risorsa per il nostro territorio. Vogliamo essere il sindacato dei lavoratori, non il sindacato dei sindacalisti di professione. Vogliamo recuperare la fiducia di un mondo del lavoro che dal piano nazionale a quello territoriale ha subito una sottrazione di diritti fondamentali. Ci poniamo quindi come una innovazione di modello sindacale che mette al centro soprattutto le categorie e il territorio.